Dalla pietra di scarto, dal fallimento, Dio costruisce la salvezza. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, preseduta a Casa Santa Marta, commentando la parabola dei vignaioli omicidi proposta dal Vangelo del Giorno. Una storia d'amore, come quella fra Dio e il suo popolo, che sembra finire con un fallimento, con le morti degli inviati, del padrone e anche del figlio. Quante volte anche noi abbiamo detto a Gesù vattene, pensando di essere noi nel giusto. Ma dalla sua croce tutto prende vita e si manifesta l'amore di Dio con il suo popolo. I profetti, gli uomini di Dio che hanno parlato al popolo non sono stati ascoltati, sono scartati. Saranno la sua gloria. il figlio, l'ultimo inviato, che è stato scartato proprio, giudicato, non ascoltato, ucciso, è diventato la pietra d'angolo. E questa storia, che incomincia con un sonno d'amore, che sembra di essere una storia di amore, ma poi sembra di finire in una storia di falimenti, finisce con il grande amore di Dio, che dello scarto fa la salvezza del suo figlio scartato. Ci salvo a tutti.